Heidegger si avvia alla conclusione del suo questionare sulla tecnica sostenendo che contrariamente a ogni nostra aspettativa ciò che costituisce l'essere della tecnica alberga in sé il possibile sorgere di ciò che salva. La tecnica è qualcosa di così radicale che mette così tanto alle strette l'essere da, potremmo dire con un proverbio rafforzarlo nel caso in cui non lo uccida non lo distrugga perché l'essere, la realtà, ciò che esiste si rafforzerebbe proprio laddove rischia di dissolversi di venir meno di venire annullato perché solo a tale punto estremo è in condizione di analizzare in profondità la propria natura come se soltanto tramite la tecnica l'essere prendesse coscienza di ciò che è potremmo anche dire come se soltanto grazie alla morte ci rendessimo conto di essere vivi e la vita verrebbe a definirsi come del resto sostengono i biologi oggigiorno solo in funzione della morte c'è perché c'è la morte ma come può per continuare con questo tentativo di traduzione di Adeger la morte salvare la vita la morte pone fine alla vita è però anche il suo destino la sua destinazione ineliminabile la salva però perché la fa essere consapevole di vivere una vita che non muore è una vita che non vive perché non si distingue da una condizione eterna immutabile così un essere senza tecnica senza il rischio dell'annullarsi in un fondo privo di differenze è un essere che non è perché non interrogandosi su nulla non può nemmeno apprezzare il qualcosa che di volta in volta si dà ancora cercando di fare un'altra traduzione del pensiero di Adeger in termini più o meno scolastici medievali anzi tra la scolastica addirittura e Darwin in termini cioè dell'interrogazione circa la differenza tra la specie e l'individuo la specie rischia continuamente di anullare l'individuo perché riconduce la particolarità individuale ad una genericità specifica e però proprio quando si sa specie l'individuo impara qualcosa di importante circa se stesso viceversa in una ipotetica esasperazione dell'individualità la specie animale rischia di svanire e però proprio quando si confronta con l'estremizzazione del suo contrario che in vero contrario non è l'individuo rispetto alla specie di appartenenza bensì è una sua manifestazione ebbene proprio allora la specie può dire di prendere consapevolezza di sé di essere in grado di stabilire o di approssimarsi a stabilire i propri confini per questo ciò che importa è che noi meditiamo su questo sorgere cioè il sorgere della possibilità di ciò che salva dinanzi alla dimensione tecnica e lo custodiamo rimemorandolo vita umana indagine filosofica come rimemorazione dialogo incessante problematicizzazione incessante socratica circa tutto ciò che è ma in che modo dobbiamo rimemorare di continuo la possibilità di costituire una salvezza da parte della tecnica anzitutto bisogna che cogliamo nella tecnica ciò che ne costituisce l'essere l'essenza in questo caso invece di restare affascinati semplicemente dalle cose tecniche fino a che pensiamo la tecnica come strumento restiamo anche legati alla volontà di dominarla per definizione questo della strumentalità e in tal caso passiamo semplicemente accanto all'essenza della tecnica quindi l'essenza di una bicicletta poniamo che è un oggetto tecnologico non è quello di costituire un mezzo di trasporto o di altro tipo ma la sua essenza è un'altra è qualcosa che ricomprende al proprio interno anche la strumentalità ma che non si riduce ad essa ed è qualcosa che ha a che fare con le profondità dell'essere con la natura o condizione comune a tutto ciò che è se però ci domandiamo come ciò che è strumentale dispiega il suo essere in quanto specie particolare della causalità ossia della provocazione dell'essere del far essere del consentire il possibile allora potremo cogliere questo essere come il destino di un disvelamento qualche cosa di più essenziale rispetto alla tecnica della strumentalità risulta quindi essere la sua capacità di attualizzare potenzialità implicite nell'essere e dunque di disvelare la realtà di togliere il velo alla realtà di fornire un destino una meta una destinazione a delle direttive implicite se infine consideriamo che ciò che costituisce l'essere dell'essenza accade in ciò che concede il quale adopera e salvaguarda l'uomo per farlo partecipare al disvelamento vediamo che l'essenza della tecnica è in altro grado ambigua tale ambiguità richiama all'arcano di ogni disvelamento cioè della verità e ora adeguer dovrà dirci spiegarci questo che ha appena dichiarato dovrà dirci che cosa intende con questo che ha appena dichiarato con l'espressione ciò che concede abbiamo già visto che adeguer intende l'essere come possibilità come ricettacolo e non tanto come accadere da un lato l'imposizione provoca a impegnarsi nel furioso movimento dell'impiegare che impedisce ogni visione dell'evento del disvelare e in tal modo minaccia nel suo fondamento stesso il rapporto con l'essenza della verità giacché se noi consideriamo l'accadere come necessario e non come possibilità fra le possibilità allora la verità non è storica non è un processo consistente nel togliere veli non è passaggio dalla potenza all'atto ma è qualcosa di fondo di statico come le idee platoniche che si dà per sempre e questo è il rischio della tecnica proprio perché funziona perché consente facilmente l'accadere e quindi potrebbe indurre a confondere ciò che è soltanto una possibilità o l'attuazione di una possibilità con l'esclusività di una necessità vincolante con cioè una assolutezza dall'altro lato l'imposizione accade da parte sua in quel concedere il quale fa sì che l'uomo finora senza rendersene conto ma forse in modo più consapevole in futuro duri nel suo essere l'adoperato salvaguardato per la custodia dell'essenza della verità così appare l'aurora di ciò che salva ora al netto di questa esasperata retorica lessicale di Adeger potremmo dire che l'uomo risulta come in maniera celebre altrove dice Adeger il pastore nell'essere nella misura in cui è un poeta cioè nella misura in cui costituisce la coscienza della realtà intesa come possibilità fantasia se si vuole e non ristrettezza ristrettezza vincolante atemporale appiattente appiattente e ciò che salva sarebbe proprio il differimento il moltiplicare le differenze ossia le possibilità l'inarrestabilità l'inarrestabilità dell'impiegare e il ritenimento di ciò che salva si passano accanto come nel corso degli astri le traiettorie di due stelle solo che questo loro passarsi accanto è l'arcano della loro vicinanza cioè da un lato abbiamo l'inarrestabilità dell'impiegare vale a dire l'accadere il successo il fatto che ciò che c'è c'è perché funziona ma se funziona ciò che c'è è problematico difficile pensare il funzionamento di altro che in quanto altro rispetto a ciò che c'è non c'è e non essendoci non si vede come possa funzionare se a funzionare è ciò che c'è quindi il rischio della tecnica sia quella artificiale umana a cui fa soprattutto riferimento adegger sia quella naturale biologica fisica delle leggi scientifiche a cui mi permetto di fare riferimento io ricomprendendo in questa quella ecco la tecnica in quanto funzionante in quanto fa cadere in quanto ha successo in quanto è possibile rischia rischia di far dimenticare la possibilità dell'altro di una differenza tuttavia proprio proprio all'interno di questo rischio proprio nel darsi di ciò che si dà proprio nel successo proprio nell'essere più assoluto appare l'aurora di ciò che salva nel senso che la tecnica e l'essere come è successo non può esaurirsi nel succedere nella funzione nella strumentalità perché sarebbe questo un limite eccessivo rispetto alla poesia cioè alla possibilità che contempla sì il succedere l'accadere il necessario e però come una alternativa tra le tante in cui è possibile essere o se non è possibile essere in cui è possibile l'utopia potremmo anche dire cioè in cui è possibile progettare indicare pensare dell'altro ciò che non è proprio perché con la tecnica l'essere si dà nella maniera più automatica più diretta più radicale più repentoria proprio per questo ci consente di pensare a ciò che non è ci consente di pensare ad altro altro a cui non potremmo pensare se nulla fosse se nulla avesse successo se nulla accadesse invece basandoci sull'accadere su ciò che è su ciò che succede possiamo per contrapposizione per differenza per divagazione e comunque poeticamente pensare ad altro ad un'alternativa cosa che non potremmo fare se nulla accadesse se nulla succedesse se la tecnica non fosse così immediata nel condurre ad un essere ancorché un essere tecnico se guardiamo entro l'essenza ambigua della tecnica che è strumentalità e non strumentalità è strumentalità perché è perché fa cadere e non è strumentalità perché rimanda al possibile e quindi riconduce l'essere al possibile scorgiamo la costellazione il movimento astrale dell'arcano la domanda circa la tecnica è la domanda circa la costellazione in cui accade di svelamento e nascondimento in cui accade ciò che costruisce l'essere della verità quando qualcosa succede la manifestazione dell'essere di qualcosa non è luce non è verità non è disvelamento ma è nascondimento perché perché quando qualcosa viene alla luce nasconde oscura la possibilità prendendosi il campo dichiarandosi o manifestandosi come unità e quindi alludendo al fatto di costituire un assoluto invece bisogna considerare l'accadere come il divenire della possibilità e quindi tradurre il suo nascondimento della possibilità tramite il dato di fatto apparentemente necessitante come disvelamento cioè esempio caso entro la costellazione tendenzialmente infinita del possibile ma a che cosa ci serve il guardare entro la costellazione della verità noi guardiamo entro il pericolo e scorgiamo il crescere di ciò che salva con ciò non siamo ancora salvati ma siamo richiamati ad un appello ad aspettare con speranza nella luce crescente di ciò che salva come è possibile qui e ora in ciò che è di poco conto questo può accadere se noi custodiamo ciò che salva nella sua crescita questo implica che in ogni momento noi non perdiamo di vista il pericolo estremo ciò che costituisce l'essere della tecnica minaccia il disvelamento perché nasconde la possibilità facendo credere che ciò che accade sia necessario e che la necessità possa darsi senza possibilità senza qualcosa di più ampio senza alternativa fa sovrastare la possibilità che ogni disvelamento si risolva nell'impiegare cioè che ogni verità che ogni essere sia l'impiegare e non ci sia altro e che tutto si presenti solo nella disvelatezza del fondo e quindi che la realtà consista in un appiattimento necessitante per dirla con la Thatcher e il liberismo economico there is no alternative non c'è alternativa e invece no una cosa apparentemente comunica il non esserci alternativa rispetto ad essa in quanto essa è ma proprio perché essa è noi possiamo pensare ad altro l'attività dell'uomo non può mai immediatamente ovviare a questo pericolo cioè di confondere la cosa con l'assoluto senza storicizzarla senza renderla relativa nessun atto dell'uomo può mai da solo scongiurare il pericolo tuttavia la meditazione dell'uomo può considerare che tutto ciò che salva non può che avere un'essenza superiore ma anche affine a ciò che è messo in pericolo può darsi dunque che un disvelamento concesso più originariamente sia in grado di far apparire per la prima volta ciò che salva nel mezzo del pericolo che non tanto si manifesta quanto piuttosto ancora si nasconde nell'età della tecnica una volta non solo la tecnica aveva il nome di tecne una volta si chiamava tecne anche quel disvelare che produce la verità nello splendore di ciò che appare e qui si può vedere il riferimento alla filosofia si pensi soltanto alla sofistica ma anche alle scuole filosofiche dell'antichità Platone Aristotele una volta si chiamava tecne anche la produzione del vero nel bello tecne si chiamava anche la poesis delle arti belle all'inizio del destino dell'occidente in Grecia le arti raggiunsero la massima altezza del disvelamento loro concesso esse fecero risplendere la presenza degli dèi il dialogo del destino divino e del destino umano e l'arte si chiamava solo tecne come poi anche nel rinascimento italiano essa era un unico molteplice disvelamento essa era fron valorosa pia promos cioè pronta e docile alla potenza e alla difesa della verità le arti non avevano la loro origine nell'artisticità le opere d'arte non erano fruite esteticamente l'arte non era un settore della produzione culturale che cos'era l'arte e si noti che all'universo come opera d'arte e quindi ha un tentativo di inserire la legge scientifica all'interno di una dimensione potremmo dire possibilista un divulgatore scientifico del livello di Borrow in Inghilterra ha dedicato anni fa un fortunato volume che cos'era l'arte quindi dalla questione tecnica alla questione dell'arte dove faccio della stessa medaglia cos'era forse per brevi ma sommi momenti della storia perché portava il semplice nome di Tecne perché era un disvelamento producente e perciò faceva parte della poesis poesis potremmo dire o natura natura proprio nel senso etimologico di ciò che diviene di energia questo nome fu da ultimo attribuito come specifico a quel disvelamento che governa ogni arte del bello cioè la poesia il poetico lo stesso poeta di cui abbiamo ascoltato le parole là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva ci dice poeticamente abita l'uomo su questa terra ma potremmo anche dire che poesia è l'essere poesia è l'universo l'universo come opera d'arte cioè le leggi fisiche di cui gli scienziati scoprono la necessità sono soltanto dei possibili all'interno di un universo poetico cioè di una fantasia debordante rispetto quelle stesse necessità e quindi l'uomo abita poeticamente perché si rende conto dovrebbe rendersi conto della possibilità al netto delle necessità ogni luogo cioè dovrebbe suggerire utopie non luoghi luoghi ancora non esistenti alternative differenze che come insegna Hegel si danno solo in relazione alle categorie di identità quindi la riflessione sulla tecnica l'equivoco della tecnica la problematicità della tecnica può tradursi ancora in una delle somme discussioni filosofiche di tutti i tempi che risale al Parmenide di Platone quantomeno se non a Parmenide stesso e ad Eraclito e che riguarda la differenza tra identità e differenza stessa che cos'è l'identità che cos'è la differenza i due termini sono correlati sono correlati e tuttavia producono distinzioni non sono possibili separatamente e tuttavia indicano distinzioni la tecnica e più in generale ciò che è ciò che accade ciò che succede una cosa apporta identità e proprio per questo però suggerisce differenza suggerisce altro il qui suggerisce consente il là il qui fa rischiare di credere che tutto sia qui ma dinanzi al qui abbiamo l'alternativa di servircene per pensare il là stesso dicasi per il presente sia come tempo sia come spazio la poesia porta il vero nello splendore di ciò che Platone nel Fedro chiamava to ec fanestaton ciò che risplende nel modo più puro la poesia penetra ogni arte ogni disvelamento di ciò che è nella forma del bello dovrebbero le arti belle essere chiamate al disvelamento poetico dovrebbe il disvelamento reclamarle in una più originaria principialità in modo che così esse per la loro parte veglino specificamente alla crescita di ciò che salva e risveglino e fondino nuovamente lo sguardo e la confidenza in ciò che concede vale a dire sia ciò che concede sia ciò che salva indicano un incremento del possibile se all'arte sia concessa in mezzo all'estremo pericolo quello costituito dalla rivoluzione industriale e dalla tecnologia cioè riduzione dell'essere a standard questa suprema possibilità della sua essenza è cosa che nessuno può sapere ma possiamo almeno meravigliarci di che cosa della possibilità opposta quella per cui dovunque si installa la frenesia della tecnica fino a che un giorno attraversando tutto ciò che è tecnico l'essenza della tecnica dispieghi il suo essere nell'evento della verità quindi tramite l'arte intesa come poesia la poesia intesa come incremento di possibilità e l'essere considerato essere da un lato perché fa cadere e necessita dall'altro perché inserisce l'accadimento e la necessitazione in possibilità ulteriori tramite questo a dire come se desse uno spessore filosofico alla fin troppo abusata frase attribuita a Dostoevsky riguardo alla bellezza che salverà il mondo poiché l'essenza della tecnica non è nulla di tecnico abbiamo visto infatti che rimanda all'oncologia addirittura alla dialettica identità differenza a cui Adeger seguendo Hegel dedicherà un'apposita conferenza bisogna che la meditazione essenziale sulla tecnica e il confronto decisivo con essa avvengano in un ambito che da un lato è affine all'essenza della tecnica e dall'altro ne è tuttavia fondamentalmente distinto tale ambito è l'arte potremmo anche dire è la filosofia perché perché per filosofare così come per fare arte ci vuole identità ci vuole precisione determinazione capacità di successo seguire delle regole acquisire competenze conoscenze linguaggi collocarsi in una dimensione efficace rispetto al reale e però in arte così come in filosofia ma anche nella ricerca scientifica tutto questo i medievali avrebbero detto adequazio tutta questa adeguazione adeguarsi non deve appiettirsi ma deve suggerire altro deve servire come trampolino verso differenze verso ulteriorità si rischia imparando per esempio dipingere ad alienarci in una tecnica e però è la condizione sine qua non per andare oltre sublimando la tecnica in una libera espressione cioè nell'indicazione di differenze inedite impensate nuove che fanno progredire l'essere nella misura in cui ne incrementano le possibilità e questo vale anche per l'arte come per la ricerca scientifica oppure anche come per l'evoluzione delle specie non ci sarebbe evoluzione se non ci sarebbe se non ci fosse diceva Mono sì necessità ma anche il caso cioè anche un agente di differenziazione si intende solo quando la meditazione dell'artista dal canto suo non si chiude davanti alla costellazione della verità riguardo alla quale noi poniamo la nostra domanda ma va oltre la nostra costellazione per costellazioni per orizzonti ermeneutici ci avrebbe detto avrebbe detto all'allievo di adiger gadamer ulteriori così domandando noi attestiamo lo stato di difficoltà per cui con tutta la nostra tecnica non sappiamo ancora cogliere ciò che costituisce l'essere della tecnica e con tutta la nostra estetica non custodiamo più ciò che costituisce l'essere dell'arte tuttavia quanto più interrogativamente consideriamo l'essenza della tecnica tanto più misteriosa diventa l'essenza dell'arte quanto più ci avviciniamo al pericolo tanto più chiaramente cominciano a illuminarsi le vie verso ciò che salva e tanto più noi domandiamo perché il domandare è la pietà del pensiero il domandare è la pietà del pensiero perché si domanda per avere risposte ma socraticamente le risposte e la tecnica come tutto ciò che è vale come la risposta non servono ad altro non significano altro che ulteriori domande e la questione della tecnica può secondo adegger essere risolta positivamente dal punto di vista umano se le risposte i dati ciò che vince ciò che è successo ciò che accade ciò che è non esclude nuove ulteriori infinite interminabili domande o richieste indagini ipotesi di possibilità di potenzialità non ancora in atto in atto l'u di l'u di l'u di l'u di di Grazie.